Ciao a tutti, vediamo i tipi di sorriso. Allora, esistono due principali tipologie di sorriso nei segnali di comunicazione urbana. Intanto il sorriso è un segnale ovviamente per definizione ritenuto positivo, quindi se una persona ti sorride, ad esempio, viene ritenuto una persona amichevole. Il bambino, già da piccolo, impara istintivamente, non è che deve impararlo, sai istintivamente che se sorride viene un modo per manifestare il suo piacere, per manifestare anche per accattivarsi, diciamo così, le attenzioni. Questo è un qualcosa di innato. Però esistono due tipologie di sorriso. Il falso sorriso, che è questo, in cui cerco di farlo. in cui i muscoli degli occhi sono praticamente bloccati. Nel falso sorriso gli occhi non sorridono. Invece il sorriso vero è quello in cui anche sono interessati anche, anzi soprattutto, i muscoli degli occhi. Sono soprattutto i muscoli degli occhi quelli che sorridono. Ecco, questa è la differenza. Ovviamente il falso sorriso è un sorriso di circostanza. Un sorriso che viene fatto senza sentimento, senza sentire, senza avere, diciamo, interesse. Insomma, è un sorriso appunto di circostanza. Mentre il sorriso vero è un sorriso che ha, diciamo, una valenza positiva, perché è una valenza positiva a 360 gradi, perché il sorriso vero è quello che è il sorriso sincero, il sorriso che esprime sentimenti. È importante riuscire a scindere le due perché uno è un sorriso fasullo, appunto, è un sorriso che ci genera tensione, un sorriso che ci fa, come dire, che viene fatto non per piacere, ma viene fatto perché la persona, diciamo, lo fa apposta, per dissimulare, ecco, un sorriso che dissimula un sentimento. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al canale. Ciao!